Un mio amico mi ha raccontato il suo compleanno. Il giorno del suo compleanno mi racconta che si alza e sente giù e la moglie non gli dice niente. Vede i suoi tre figli e nessuno gli dice niente. Va in ufficio e tutti i suoi colleghi non gli dicono niente. Va nella sua stanza d'ufficio e la segretaria dice buongiorno capo, tanti auguri. E lui si è sentito veramente realizzato di aver ricevuto gli auguri dalla sua segretaria. Così dopo, dopo questi auguri, dopo la sua realizzazione, vanno a pranzo insieme. Pranzano, manciano, bevono, ridono, scherzano e dopo vanno a casa della segretaria. Entrano a casa, sono seduto sul divano, nel salotto, e lei dice scusi permetti che vado un attimo in bagno a cinque minuti? E dice certo. La segretaria va in bagno e dopo poco tempo si apre la porta ed entrano i figli, la moglie, tutti i colleghi d'ufficio per fargli gli auguri. Intanto lui era già nudo sul divano.